3, 2, 1, go! Running on the spot! Esercizio fisico ed educazione alimentare sono queste le strategie messe in campo nel Regno Unito per combattere l'obesità infantile. Un problema sempre più diffuso che oggi colpisce un terzo dei giovani inglesi. A rivelarlo è uno studio del King's College di Londra, che ha esaminato in 20 anni 370.000 bambini tra i 2 e i 15 anni. Tra i più grandi, quasi il 40% pesa troppo. E' molto preoccupato il professore che ha diretto lo studio, soprattutto per gli adolescenti, che hanno un'alta probabilità di rimanere obesi da adulti e di soffrire di malattie croniche come il diabete del secondo tipo. Lo studio tuttavia mostra segnali di cambiamento. Tra il 94 e il 2003, infatti, la percentuale di bambini sovrappeso è cresciuta dell'8% all'anno, ma nei 10 anni successivi è scesa allo 0,4. Se sei sano, avrai una buona vita, dice James. 7 anni. E' proprio su bambini come lui che le campagne di sensibilizzazione sono più efficaci. I genitori sono sempre più coscienti del problema, secondo questo insegnante, ma spiegare l'importanza dell'alimentazione ai loro figli a scuola può aiutarli. Per la prevenzione, però, non è mai troppo presto. Secondo uno studio dell'Università di Southampton, per i bambini nati da una madre con chili di troppo in gravidanza, il rischio sovrappeso è 4 volte più alto.